Musica Ciao ragazzi, siamo qui alla clinica di Sostorismo Dentale di Chisino è una bellissima antrosera, abbiamo tutti i pazienti fuori qui nel nostro parcheggio praticamente abbiamo fatto un corso con dottor Palmasori, siamo usciti tutti fuori abbiamo fatto una sorpresa anche a lui e ora sono tutti i pazienti lì che stanno facendo con lui delle foto però io vi invito ad andare a chiedere a tutti come stanno, cosa fanno, ma più che altro come si sentono Dimmi un po' come ti senti Ok Bene Benissimo, bella, benissima L'incontro con dottor Palmas Perché ormai dovevo solo stuttiare le cannucce L'incontro con dottor Palmas come è andato Benissimo La tua esperienza in Moldavia, parlami un po' Ormai è la quarta volta che arrivo, è come casa mia Come mi sento oggi? Benissimo Bene Come ti sembrato l'evento, come ti sembra la testicciola? Bella, bella, sì, veramente bella E in Moldavia, l'esperienza in Moldavia? Allora io sono un'accompagnatrice, però come accompagnatrice ho avuto una bellissima esperienza Ok Siete simpatici, comunque sempre disponibili Come ti sembra qua? Bella, allora la cosa bella di Kishinau è che proprio siamo in tanti Ogni volta che io vengo qua siamo proprio Sembra di venire in nave da crociera C'è festa sempre Kishinau è una realtà più piccola E una realtà di uno studio comunque più piccolo Perché giustamente è una start up E Yashi, già più grande di Bucharest Però certo non sono 200 persone come qua Quindi poi vabbè, i ragazzi qua sono ormai rodati, scaffati Con tutta quella che è la gogliardia che caratterizza questa clinica Ci stanno facendo le foto Ok Io volevo farti un applauso, veramente Un applauso personale mio Perché sei stata una stampella questi mesi Sei stata veramente quella parte importante che fa la differenza Per tutti i pazienti e anche tutta l'azienda Veramente grazie 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 a te Daniela è una nostra carissima amica Perché è diventata amica Che ha contribuito tantissimo al nostro progetto di SOS Children Perché voi sapete che noi abbiamo un progetto SOS Children Dove andiamo a tutti i bimbi Anzi a tante famiglie che sono in necessità Quindi lei è stata una di quelle che veramente È stata molto coinvolta in questo progetto Quindi ti ringrazio veramente tanto E sono molto molto contenta che sei ritornata a Kishinau Sono contenta anche io Speriamo di fare sempre qualcosa di più per i bambini, per i denti, per tutto Siete meravigliosi in ogni senso Io ho trovato conforto, amore, amicizia, appoggio E per me che sono insicura e ho paura di tutto Mi ha recadato tutto Quindi grazie Grazie a te Mi trovo bene, i denti sono meravigliosi Mangio bene, l'estetica è bella È quello che importa No, è importatura, quindi complimenti Mi trovo veramente bene Farò pubblicità Ok, bravo